ciao a tutti sono con la mia fantastica modella calli vi dimostreremo come eseguire un reverse root smudge usando nuovi gloss tones di colorance spero vi piacerà e Grazie a tutti. Grazie per l'attenzione, spero ci abbiate seguito con piacere e che vi piaccia il risultato finale tanto quanto piace a me. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per altri video come questo.